Ginozzo ciao ti manco seduto la vicino è brutto stare da questa parte del tavolo da solo e non sapere la reazione che farai con le persone va bene cosa ci vuoi mostrare un acqua e olio ma di chi è questo acqua e olio è questo qua c'è lui questa è opera tua vabbè ok vediamo perché poi manco me li ricordo allora due carte nere e due carte rosse che si alternano così una due tre e quattro perfettamente alternate lasciamo due qui e due in mano gesto qua due nere e sul tavolo passano due rosse ma ripetiamolo nera rossa e in mano nera e rossa attenzione in mano arrivano le nere e sul tavolo rosse ripetiamolo di nuovo molto più lentamente nera rossa rossa nera gesto e ancora una volta arrivano le nere e sul tavolo rosse un'ultima volta però lo facciamo con le carte di faccia e dorso quindi le alterniamo così dorso faccia e dorso faccia chiudiamo tutto mostro che sono alternate perfettamente alternate eppure con un gesto sotto passano le carte di dorso e qua sopra faccia due rosse e sul tavolo due nere ciao spiegazione per il setup ci sono tre carte rosse e due nere le tre rosse partono sul fondo e le nere in cima mostriamo quattro carte quindi le prime due nere e spingiamo questa ovviamente la terza rossa è coperta si mostrano due nere e due rosse si chiude tutto si prende la prima carta nera la si sfila la si mette di dorso si ribalta questo mazzetto si sfida una carta si ribalta di nuovo questo mazzetto un'altra carta e qui rimaniamo con una doppia che verrà capovolta su questo mazzetto adesso la situazione è questa mostriamo però sempre quattro carte e mostriamo che sono alternate nel mostrare prendiamo un break quando rientriamo quindi così a queste ultime due carte sul fondo quindi mostriamo nel chiudere si prende il break si posa tutto sul break si preleva la porzione superiore quella inferiore subito si ribalta e si stende quindi per il pubblico c'è una carta rossa e una carta nera e in mano una carta rossa una carta nera mostriamo bene quando in realtà qua sono due rosse qui in mano siamo così prendiamo la prima in modo da mostrare una carta nera una carta rossa gesto si spingono due si afferra la carta quindi la doppia e mostriamo come magicamente da rossa e nere diventano una nera e due nere e capovolgiamo usando queste come paletta diciamo le due rosse chiudiamo il tutto ribaltiamo questo mazzetto mettiamo una nera in realtà una rossa alternate con una rossa questa carta si mette in in jog quindi in in jog e ribaltiamo tutto adesso qui c'è una doppia e seguiamo questo color change spingendo con l'indice la carta nera una volta arrivati qui squadrata si preleva la prima singola quindi fatta in velocità è questo mostriamo come in mano sono passate due carte nere e ribaltiamo queste mostrando due carte rosse ancora una volta giriamo queste tre carte una sul tavolo e un'altra rossa questa volta la carta rossa va in out jog quindi verso l'esterno si ribalta e questa volta eseguiamo un altro change un po simile a quello solo che spingiamo da sotto verso sopra una volta arrivati si riporta questo indietro vediamolo fatto normale questo è il punch brush change così spingiamo e torniamo dietro mostriamo ancora una volta le due nere in mano e sul tavolo le due rosse adesso viene la fase finale allora si può mostrare una nera e si sfila la prima da sopra in modo che in mano ora abbiamo una doppia composta da due carte nere la appoggiamo sul tavolo coperta e diciamo questa volta di voler intersecare le carte dorso e faccia dorso e faccia o squadriamo bene qua chiudiamo tutto e mostriamo ancora una volta che le carte effettivamente sono alternate qui ovviamente c'è una doppia nel chiudere queste due carte vengono mantenute in break al mignolo quindi mostriamo nel chiudere si mantiene un break le afferriamo passando il break dal mignolo al pollice e con un gesto quindi magari di toccare qua sopra lasciamo cadere questa doppia dicendo che le carte di dorso si separano da quelle di faccia si prende un break con il mignolo all'ultima carta si afferra la doppia e la carta singola si passa sopra la doppia e come paletta ribaltiamo le due carte nere e infine mostriamo due carte rosse e due carte nere e possiamo chiudere ciao